Non si è ancora bloccata. Bisogna darti un po' di tempo, perché lagghi ogni tanto. Vediamolo. Bene. Ho il reboot, o vabbè, la nuova stagione, diciamo così, ma per me è un reboot, delle Totally Spice. Le seguivi assiduamente? Allora, no, io ero già a quell'età intrippato con gli Entai, quindi le cose soft non mi sono mai interessate più di tanto. Cioè, se bisogna andare all-in, bisogna andarci veramente. Prende da quanto vuoi andare Kinky. E totalmente. Avevano ogni episodio che era paragonabile a aprire Rule 34 per 15 minuti, cioè... Era meraviglioso da quel punto di vista. Non lo so, secondo me era... Diciamo che era una grande introduzione a qualcosa che non arrivava mai. E a me dava un po' fastidio. Mi sono bloccato di nuovo, porca vacca. Tranquillo, non ci pensava, non ci pensava. Sì, ci penserò per sempre, basta. Dai, vai a partire il trailer, divertiti. Aspetta che stavo cercando di... Perché è tutto sballato qui, madonna, se odio questa applicazione di merda. Scusa, ecco qua. Perché la usi ancora? La uso ancora che non c'è nient'altro di meglio. Ok. Per qualità prezzo o... No, no, proprio per tutto, oddio, madonna. Ok. Eccoci qua. Allora, vediamo il trailer. Così mi preferisco. Welcome to Whoop World. That's me, Zelina. Listen up, Spice. Perché? Cosa... Chi c'è che non va? È per la teiera? Se sono inclusi anche Totally Spice. Cioè, non è che i neri hanno cessato di esistere. No, lo so, lo so. Però posso dire quantomeno un po' particolare, no? Va bene, andiamo avanti. C'è di particolare. Ora dopo te lo dico. Cioè, ci sono altre fen districtie di più tante delle proposte probabilitiesaliali al Reg师 della Conlevandia. That's a lie da recupero. Cioè, oggi sono pazre chiusa Oh-oh. Oh, ho, diare Copinstos. Sì, ma una merda, ma una merda, ma atroce! Ma lo era già, lo è sempre stato! No, sì, quello è peggio! Ma è peggio, eh! Come è peggiorato, scusa! Sì, ma ci sono tre quarti, sono tutti sbagliati! Cioè, sono tre quarti che dove il corpo rimane frontale e loro sono tre... è tutto orribile! Ma già, così, cioè, ma quella cosa... Ma, beh, ho capito, ma siamo nel 2024, ci sono 400 miliardi di animatori su YouTube che fondono lo stile europeo o americano a quello nipponico! 40.000 volte meglio, ma assumili, no? Ma perché devi far fare l'animazione in Nord Corea? Ma che cazzo vuol dire? Non sono veramente, spero, fatte in Nord Corea, però, cioè, è veramente una merda! Va bene. Era brutto anche prima, sì, ma nel 2024, con certi studi americani che ti fanno un bucio di culo così, con il rilancio degli anime, con l'apprezzamento degli anime da parte di praticamente di ogni persona al mondo, anche la zia di Obono, cotubi ficcati su per il culo nelle RSA pieni di Covid, seguono gli anime, potresti fare qualsiasi cosa? No! Si rimane su quella roba lì, quadrata di Obono, animazioni pessime! Veramente orribile, va! Era molto precisa la descrizione della zia. No, così, per dire, cioè, non ha sé! Via, 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 via! Bene, passiamo al prossimo, non c'è problema! No, comunque, la capa nera va benissimo, è una battuta, solo che mi ha fatto ridere! Che si toglie dello stereotipo della donna nera anni 70 con gli afro giganteschi! Così, bello, però, nel 2024! Comunque, no, sembra veramente orribile, andiamo avanti! Ok, vai! Oh, ecco, vediamo, questo mi interessa parecchio, speriamo bene, perché sennò io veramente perdo la testa, divento pazzo se fa schifo questa roba! Oh! Oh, sono belli! Oh, ecco, ecco, ecco! Ok, allora, innanzitutto, rosico con un maiale che vada su Netflix, perché si vede che c'è un livello tecnico impressionante, dall'Hardman, le animazioni sono incredibili, non sembra nemmeno più plastilina, ormai rivedere Wallace fa sempre piacere, per me esistono pochissimi credi, uno di questi è Wallace e Gromit, spero che dopo la, non dico cosciente, però la delusione di Chicken Run 2, l'alba del nuggets lì, si torni un'altra volta a un film veramente, veramente bello, perché la maledizione del coniglio Mannano era qualcosa di strepitoso e raggiungere quei livelli non sarà facile. Esprimo di nuovo le mie perplessità che espresse ai tempi del secondo Gallina in fuga, ovvero Hardman per me è sempre stato anche tanto creepy. Ci deve essere un po' quel fattore di horror, ma quella pennellata di, no, di brivido freddo lungo la schiena ci deve essere. C'era in Gallina in fuga, c'era nei Wallace e Gromit, hanno rispolverato uno dei villain più inquietanti per i bambini che vedevano Wallace e Gromit ai tempi, cioè il pinguino, speriamo che lo sporchino, perché Gallina in fuga era tutto, due, era tutto tranne che sporco, mentre il primo era praticamente un film su un campo di concentramento, cazzo. Quindi vediamo, non lo so, che cosa ne pensi? Io sono entusiasta perché, allora, a livello grafico è identico, non è cambiato niente. Era leggermente più pulito Gallina in fuga 2, era anche troppo colorato, mentre qui effettivamente sembra il seguito diretto della maledizione del coniglio Mannaro. Io avevo paura che magari mi raccontasse una storia che non andasse verso l'horror, e invece parte verso l'horror. Cioè Wallace che viene accusato di essere colpevole di qualcosa di cui non è colpevole, l'abbiamo già visto, farlo tornare mi piace, perché qui è completamente diverso rispetto a prima. Vedere quell'inquadrature mi fa pensare a Davy Jones, per esempio. Io spero davvero tanto che vadano nella direzione dell'horror, ma il trailer mi fa pensare di sì, dai. No, io poi non è che voglio un horror a tutti i costi, però non voglio nemmeno la roba colorata e carina. Insomma, vorrei anche un po' di... Ogni tanto quel brividino l'hardware me lo deve dare. Insomma, ce l'ha avuto quasi sempre, lo apprezzo, sono stati sempre molto maturi. E figli di quella comicità inglese, insomma, loro si sono fatti anche un po' portavoce con questi personaggi. Va bene, andiamo avanti. Speriamo bene, speriamo bene. Che palle vederlo solo sul piccolo schermo, quello sì. Beh, purtroppo ci tocca da quel punto di vista, ma hey, ci saranno screening speciali, spero, roba del genere. Poi me li racconti, me li racconterai. Per la gente, non testi. Ah! Ho capito male, scusami. Da qui c'è il comitato, è il suoтаore. E questa città ha... La Lone Wolf! Bi-Boy! Chi? Che? C'è il nostro bitch per speciali, brand-ne ure avventure, dove Lone Wolf è il nome, e crime-fighting è il sogno. Watch'o qui, suizi a Cartoon Network, suprima del latesti Teen Titans Go! Episodio. Bisogna! Savage! Capito nuovo, Beast Boy Lone Wolf, Coming to Cartoon Network Dai, parla a te, vai Cartoon Network se n'è stata zitta zitta Perché dopo i suoi grossi cambiamenti Non stava annunciando più nulla Delle sue serie, adesso abbiamo avuto Un pre-trailer di annuncio E uno di quelli è questo Ovvero Non è chiaro che cosa sia Dovrebbe essere uno spin-off su Di Titans Lo spin-off di Titan Non so né quanto possa essere Fedele a qualcosa che sia esistito In passato o meno Quindi ho poco da dire Parlavi prima di gente che è capace Di mescolare uno stile più orientale Con quello occidentale E questo è un esempio migliore di Totally Spice Io sento le tue bestemmie, perché non le esterni? No, no, no Non sono molto d'accordo E dammi torto No, va bene così, dai Ci sta E fa amor furri, ma che ti devo dire Va bene così, fa amor furri Oh, ora so perché non mi hai detto torto Dai, dai Abbiamo Creature Commandos adesso DC Studios General Flag E però non c'è quella che ti piace La Oh, princess A United States is in the business of saving the damn world By any means necessary What in the holy hell? Congress said we can't use human prisoners These assholes aren't human Do you understand me now? Who is she? We call her the bride I was born here Baby Who is Jason in the Argonauts? It's Dr. Phosphorus Why are you doing this? It's business Sometimes I feel a little man What is that then? The weasel We know it has what it takes to survive That's Nina Mazursky Daddy Last one is G.I. Robot Cheers to the Tin Man Cheers to the Tin Man I know you all aren't exactly enthusiastic about this mission I didn't realize I had a choice You said you wanted me to be a hero Not like that Until we find out the truth of what's going on here We're supposed to be on the same damn team G.I. Friend Nina And you're bound to see my other side Shish-she-bob I'm just a soul whose intentions are good Your voice is so hyperbolically violent You need therapy I don't even need therapy Most people will carry me I don't even know your reduced A me piacciono un sacco i neri Quelli sotto il mento Forti Ogni volta che c'è un'ombra È proprio nera Alla massima potenza Come se fossimo completamente al buio Sì, sì, va bene Enrico Allora, guarda, ti dico la mia Che cazzo devo dire? Non lo so Allora, secondo me Cerco di fare un discorso serio dopo questa roba Allora, io sono contento che la violenza Sia arrivata in maniera esplicita Nei cartoni animati Anche sulle grandi piattaforme Per far capire al pubblico che l'animazione Può essere anche per adulti, bla 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 Però allo stesso tempo Spero che non ci mancino troppo Perché se no poi Andiamo nel verso opposto Cioè poi non diventa più un'idea originale Non diventa più Uno strumento Per esprimere la propria creatività Ma diventa fanservice Esattamente come un culo di fori O qualsiasi altra cosa Speriamo di no Hanno preso tanto da Gun Per carità, Gun sta supervisionando Questo universo anche allargato Quindi va benissimo così Però sembra un po' appunto Di vedere Suicide Squad A cartoni Che può essere un bene Se è fatto bene Non vorrei però che ci fosse Un mischione Tra The Boys Suicide Squad di Gun Invincible Le altre robe E si faccia poi un pappone Che poi in realtà Assomiglia a tutto E non assomiglia a niente E... Captato? Captato? No, no, no Dimmi 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 In realtà non mi preoccupa così tanto Perché di sicuro è fatta con intenti di fanservice Ma onestamente sono talmente abituato a vedere solo fanservice di dialogo Nei prodotti supereroistici Dove è tutto il contesto La lore Il personaggio La backstory Il flashback Il dialogo tra i personaggi Che deve essere infinito Esteso al massimo Per dare più informazioni possibili Che vedere che Per una volta Di fanservice in questione E guardo un po' di splatter Mentre sto guardando una serie su supereroi Mi sembra davvero l'ultimo dei problemi C'è proprio una cosa che mi fa stare tranquillo Nonostante mi preoccupi Perché è fanservice di fatto Però Menù becero che abbiamo visto recentemente Ok No, no Lo so Lo so Poi ripeto C'è Gun dietro Va benissimo L'ha scritto lui Tutto quello che ti pare Però Ho paura solamente del Cioè che ce ne sono tante adesso Fatto così Capito Appunto Invincible Insomma è stata La uscita È molto buona The Boys Insomma Ti è bassi Anche The Boys Non dimentichiamo Diabolical Che è la serie animata Con i corti dentro Che è molto molto caruccia Quindi Non lo so Vediamo Vediamola E poi ci facciamo un'idea Lo stile animazione Non è che mi faccia impazzire Particolarmente Però Ve lo posso accollare Se la sceneggiatura è buona E divertente Vediamo Gun è sempre stato così però Sì vediamo però ragazzi Perché un prodotto animazione seriale Così è diverso È da Fare un Size Squad Vediamo Vediamo E poi abbiamo quel Natale Film natalizio Che ci sta bene Non ne manca uno Aspetta Non ti preoccupare Vai vai Andiamo avanti Ah Ok Questa è la storia Di una delle notti Più difficili Della mia lunga carriera Senti non riuscirai A far passare Tutti i sacchi Dal cammino In un colpo solo Presto il Natale Senti rico Si può alle vasta roba Si può Passare oltre E basta Si fa altro Hai dei pregiudizi Verso i film di Natale No Guarda Che cosa succederà Vai Non Non lo so Enrico Non lo so Non mi interessa più Ti lo giuro Guarda Non mi interessa Nemmeno farmi idee E questo è un pregiudizio Questo è un pregiudizio Quello è buono Va bene Forse Vediamo Seguiamo questa cosa Lei avrebbe bussato Alla porta di Wellington Venite fuori Vi presento A me piace tantissimo Il Natale Bernadette Conto su di te Ho letto dagli scrittorini Notting Hill Si può togliere Enrico Veramente confermo Si può togliere Notting Hill Mi fa venire l'orticaria Perché odi Notting Hill Perché hai stillato Nella testa delle persone Un'idea sbagliata Di quel paese maledetto E la gente Crede che sia fatta così Non è così Odio È soft power Ciao Sam Hai rovinato il pranzo Di Natale di tutti Tranne quello dei tacchini Guarda Papà sarà qui tra un'ora E ti porterà più regali Di Babbo Natale Ci vediamo Papà Oh Le strade sono bloccate Oh la neve Pensavate che le nevicate Fossero finite? Sbagliato Buon Natale Sono certa che ci ha provato Non so se l'hai notato Ma c'è una leggerissima tormenta Davanti a noi Ciocchezze È solo un po' di brezza Oh 71 Tu Enrico 151 e G Hai Dei pregiudizi Nei confronti Dei film Non ho detto che hai torto Ho solo detto che hai dei pregiudizi Cioè Il VOD è a disposizione di tutti Dichiarazioni pubbliche Le potete vedere Non è un problema Non è che se una persona Mi dice I neri sono ladri Gli devo dare ragione Basta costi neri Ma che cazzo c'hai oggi? A parte che ho iniziato io Quindi il cazzo è colpa mia Però insomma Guarda eh Ma sei curioso Ma poi la tempesta di neve Ma se Di neve Seriamente Seriamente Che blocca la città Ma poi che cazzo Ne frega Babbo Natale Che vola Maremma puttana Ma lui Ne frega niente Sono i genitori Che restano bloccati Eh godo Se gli sfacciano i cazzi loro Oh Allora Enrico Stai rimanendo chiusi in casa Riscoprono La bellezza di stare insieme In famiglia Non guardando lo smartphone Io giuro che prendo Queste cazzo di tenaglie E mi tolgo una palla Perché non è possibile Una cosa del genere Allora Partiamo dal punto Che ormai hai giurato Quindi Dovrai farlo E in live Ma Basta guardare il trailer Per sapere se è vero o no Perché c'è già il finale Come tutti i trailer D'animazione Negli ultimi vent'anni Guardiamo No c'è un ipad in mano No ecco Addio il testicolo Devo già iniziare a salutarlo Fa cosa per Natale È una possibilità No Mamma Che hai fatto ai capelli Eh già Non è niente Quando ti senti solo Il Natale può essere difficile E i nostri eroi Serviva un gigantesco sacco Pieno di aiuto Non arresta Dimentiti babbo Natale Dov'è Ivy? E la situazione sarebbe diventata Per tutte le renne Molto Ma molto Più complicata Più veloce Preparatevi per Quel Natale Con chi parli? Parli da solo Babbo Natale Bene Abbiamo ancora un trailer No no Parla parla Devi dire la tua Non c'è niente da dire È un film di Natale È una cosa che abbiamo già visto Un miliardo di volte È esattamente No 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 È un film di Natale Di merda Che è una cosa un po' diversa Però eh Perché Nightmare Before Christmas Che è un film sia di Halloween Che di Natale È molto bello Klaus è molto caruccio Il Grinch è bellino Ce ne sono tanti eh Non quello di animazione Ce ne sono tanti Beh anche Mamma ho perso l'aereo Tantissimi Mamma ho perso l'aereo Die Hard Belli sono anche quelli Che non devi vedere Per forza Natale Le 5 leggende 5 leggende Certo Le 5 leggende Un film di Pasqua È ambientato a Pasqua Va bene va bene Poco God Fathers Poco God Fathers Cioè Le 5 leggende Comunque Eh sì ecco Va bene Grazie 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 Tonno Grazie mamma Per l'abbonamento Grazie Cane Axel Comizza Evviva Gianluia Gigacciao Warren Il professor Zomoia Luca Bete Federico Il vecchio Gerita Matteo E Anna Dimmi 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 Enrico Vai vai Perché abbiamo saltato Quel trailer Prima Perché Ve lo sono Tenuto Per il gran Finale Ah ok Avevo paura Che ci fossero Suori da raccontare No 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 L'ho anche visto Perché il trailer Io te l'ho messo Nell'elenco Tipo 3 settimane fa Poi è passato il tempo Allora ragazzi Torna Possiamo dire In grande spolvero L'animazione Italiana Beh l'ultima volta Che ne abbiamo parlato Niente è andato storto Esatto E Quindi È giusto Introdurre Un reboot Che tutti stavano aspettando Con questo grande trailer Di cui abbiamo Sono due trailer Che hai saltato Allora va bene Iniziamo con questo Ok Ah io ho capito A cosa si stavi riferendo No ma finiamo con questo È meglio È Un reboot Di cui aspettavano Tantissime persone È Appunto Il ritorno Personaggi conici Che hanno formato Una generazione Forse due Abbiamo già visto Un piccolo accennino Qualche tempo fa Ma adesso Abbiamo Un trailer E finalmente Possiamo Goderci Tutto ciò Insieme A Enrico E a voi Ovviamente Ovvero Winx Però prima del titolo Watch it now Winx Club Reboot Teaser Trailer Magic Is back La magia È tornata E guardiamocela Sta magia Grazie a tutti Grazie a tutti We'll teach you everything we've learned. I'm so excited to meet all of you. We know so. We know this isn't easy. Blue, no! But hard things never are. Burning sun! You must discover your true nature. Not so fast! But what does Winks mean? Nothing, just Winks! Come on, come on, what's wrong? I'm sorry. What's wrong? They're so sad, Enrico. Then you find the song. They're so sad, Enrico. Non ho idea di che cosa parli. Farai riferimento a un film che non esiste. Vabbè. E... Io... Cioè... Jody, che cazzo vuoi? Ah, no, già, perché è vero, erano i tuoi datori di lavoro. Tra l'altro ho qualcosa dei tuoi vecchi datori di lavoro. Eccoli. Ecco qua. La carta di Jody, cecchetto. Del personaggio che interpretava nella serie. Infatti era della Rainbow, no? Eccolo qua. Rainbow. E poi... Maggie è bianca. C'è la versione Olo e la versione non Olo. Con l'artwork alternativo. Cosa sto guardando? L'ho presi nei vault della Panini. Me li sono fatti regalare. Quando sono andato a fare un appuntamento di lavoro. Lavoro mio, non loro. Allora, e... Niente. Che dire, ragazzi. Sì, me ne faccio fotografare, tanto Jody c'è in maratona, quindi. Allora, allora, dai. Ti piace? Bello, no? Non mi hai da dire di male. Ti dico tutto. Le animazioni, i movimenti dei personaggi, il design dei personaggi, gli sfondi, la tecnica 3D plasticosa, i dialoghi, non così, cioè non così, not so fast, che io penso l'abbia sentito in 400 miliardi di film d'animazione, la scuola, la somiglianza con Harry Potter per via della scuola di magia, i design dei professori fa cacare al cazzo, sembrano usciti a un film in cassetta della Stardust degli anni 2000, e tanto altro. Cioè, vuoi sapere delle altre cose? Ma non so se hai visto recentemente le Winx come erano, ma sono invecchiate male, tanto male. Se vogliamo parlare del perché sono invecchiate male le Winx, ne possiamo parlare da ora fino a Natale, che comunque non manca molto. Però non è un buon reboot questo, Enrico, non puoi ripartire con questa roba. Perché? Perché è vecchio, è vecchio, vecchissimo. Ma anche un occhio non esperto di un bambino se ne accorge che c'è qualcosa che non va rispetto ai film che va a vedere di solito al cinema. E poi, Enrico, cioè il fatto che andavano bene un tempo non vuol dire che vadano bene adesso, perché comunque da quando hanno esordito le Winx, fino a oggi, di acqua sotto i ponti, anche nel mondo dell'animazione, ne è passata. E se te credi di poter fare ancora un tie-in di personaggi che poi ti serviranno a vendere i giocattoli, in questa maniera, non hai idea di come sono i tie-in che cercano di vendere i giocattoli nel 2024. Perché quello che interessava alle vecchie generazioni era una cosa, ai tempi, ma adesso quello che interessa alle nuove generazioni, di adesso però, del 2024, è roba diversa. È roba, cioè proprio sono cambiate le mode, sono cambiate le generazioni, sono cambiati i gusti, è cambiata la tecnologia, la storia del cinema, l'animazione è andata avanti. La serialità nel mondo dell'animazione è andata avanti, ha permesso a grandi registri di fare grandi merda, ma anche grandi prodotti commerciali che adesso si trovano con un abbonamento mensile sulle piattaforme. E non va bene questa roba. Per i giocattoli nello specifico, che cosa hai in mente nel pratico? Allora, io non vorrei che ci fosse l'approccio di fino anni 90-inizio 2000. Cioè, facciamo un prodotto confezionato alla bella e meglio per vendere i giocattoli. No. Cioè, il prodotto deve avere una sua anima e deve funzionare indipendentemente dai giocattoli. Poi dopo facciamoci anche i giocattoli e cerchiamo di venderli. Per carità, non è che sono contro queste cose, sarei pazzo ad essere contro queste cose. Semplicemente bisogna fare una roba... Un tie-in vuol dire, ragazzi, un prodotto basato su qualcosa di già esistente, che magari non riguarda quel determinato business. Quindi, non lo so, magari fai un videogioco sul film di Wolverine. Una cosa del genere. Vabbè, comunque, forse questo non lo classificherei manco come tie-in. Però, diciamo... Ecco, questo è un progetto cross-mediale. Un progetto cross-mediale delle Wings. Cazzo. Cioè, devi farlo bene se vuoi rilanciare le Wings. Anche perché le Wings, quando uscirono fuori, fecero veramente un casino incredibile. Ed effettivamente sono concorde con te, eh. Secondo me era abbastanza tamarrino. E molto... Sopra le righe già i tempi. Però, ripeto, non siamo più in quegli anni. Cioè, adesso non è più... Ok, accendo la televisione e mi guardo quello che c'è. Oppure mi compro la cassetta, mi compro il DVD. Mmm, non è così. Non è che accendo Italia 1 e guardo quello che mi passa Italia 1. Guardo quello che mi pare. E se devo guardare quello che mi pare, deve essere bello. Perché nel mondo delle piattaforme ci sono 300.000 prodotti validi adesso. Ma, ripeto, ce ne sono anche tantissime merde, eh. Però... Non c'è più la visione passiva come c'era un tempo. C'è la visione che mi vada a cercare il prodotto che voglio. E adesso devi vendere bene. Ma come la gestisco la visione passiva e attiva, in questo caso, con le Wings? Con un buon trailer. Con un buon trailer con qualità alta di un prodotto. Fili, ok, ma come posso cambiare il prodotto? Perché di per sé è un prodotto che ha serialità forte, non c'è niente da fare. E vuole per forza quel tipo di racconto. Facciamo un esempio pratico, se vuoi. Io ce l'ho in testa, un esempio pratico. Però affonda le radici nella serialità televisiva. Mercoledì. Sì. Mercoledì ha preso la famiglia Adams, che è stata non so quante volte riadattata. Sia a cartoni che a serie 3. Pochi rispetto a quello che siano 3 anni, anni 60. Poi cercano di fare la serie animata. C'è il carton animato, Anna e Barbera. Poi c'è stata la serie animata degli anni 90. Poi a parte quello abbiamo avuto la saga di film che è uscita recentemente e quella degli anni 90. Fine. Non di più. Sembrano tantissimi. Poi c'è la striscia a fumetti, chiaramente. che è stata l'origine di tutto. Oltre la striscia a fumetti. Che, ecco, fate... Sì, 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 infatti, ci bisogna mettercelo. Poi, vabbè, il film animato, anche sì, ce l'ha... Ora vediamo, però è anche il musical, vabbè, ragazzi, ora non esageriamo. Comunque, prendiamo mercoledì. Mercoledì, che a me non è piaciuta tanto, però cosa ha preso? Ha preso la generazione Z, l'ha cercata di inseguire, e ha riadattato un personaggio della famiglia Adams, quello che si prestava di più a una serie teen. Ha preso la visione di un regista che comunque, cazzo, ha fondato un linguaggio che ha influenzato, penso, anni 80, 90 e 2000. E ci ha fatto una serie che ha saputo vendersi di brutto sulle nuove generazioni. Perché? Perché ha preso tutte le influenze giuste, ha rivestito mercoledì, ha preso un'attrice con una faccia giusta, eccetera, e ha fatto qualcosa che sulla carta funziona, che ha funzionato fin dal primo trailer. Per me no, ripeto, però per molti ha funzionato. Qua è difficile che funzioni, secondo me, perché i bambini di oggi sono abituati a dei prodotti in CGI molto più alti, anche quelli di serie B. Questo non sembra nemmeno un prodotto di serie B, sembra qualcosa di ancora più brutto. ed è un problema perché sulle piattaforme trovano un sacco di roba bella, anche per loro. I ragazzini, i ragazzini, i bimbe. Io ho ragionato solamente a livello di come hanno modificato ciò che avevano, senza ragionare sul fatto che il problema è che ciò che avevano non andava bene e non hanno raggiunto il livello di qualità minimo per attirare un ragazzino oggi. Nel senso, il motivo per cui le Winx funzionavano nei tempi è, per esempio, tra le altre cose, il fatto che fosse il momento giusto. Era un momento in cui i bambini volevano il fantasy. Era un momento in cui i bambini volevano la scuola di magia. Era un momento in cui i bambini adoravano i prodotti giapponesi e questa era una cosa che miscolava Harry Potter al Miu Miu, a Sailor Moon, a tutta quella roba. Bravo, però adesso quanti prodotti giapponesi le nuove generazioni conoscono e trovano sulle piattaforme? Non accendi più Italia 1 e trovi Dragon Ball. Adesso hai una vastità immensa e lo conoscono. Le generazioni vogliono l'anime perché è edgy, perché è oltre, perché è violento, perché è horror. Non è più un interesse da bambine di 6 anni che si guarda il Miu Miu. No, no, aspetta Enrico, secondo me c'è una valutazione da fare. Gli anime funzionano, oltre a tutto quello che hai detto, che è giustissimo, funzionano perché c'è qualcosa per tutti. Sì, certo. Per ogni genere, per ogni target, per ogni voglia, c'è tutto. Questa roba qua sembra uscita dall'inizio nei 2000, da come si vestono, da quello che dicono, dai colori, dal design della scuola, dal design delle capigliature, dei professori. Sembra gridare anni 2000 da tutti i pori, però non sembra parlare a nostalgici, perché vuole cercare anche di introdurre qualcosa di nuovo, ma non sembra nemmeno parlare a nuove generazioni, perché ha tutto ciò che le nuove generazioni non conoscono o non vogliono. Quindi a chi cazzo sta parlando questo nuovo Winx? Non riesco a capire. Eh, ma quando hanno fatto Fate the Winx Saga, versione live action delle Winx, effettivamente sono andati molto incontro a quello che piaceva ai ragazzi in quegli anni, perché se lo guardiamo è praticamente Stranger Things. Cioè, con tutto l'amore del mondo hanno fatto Stranger Things, ma c'è una scuola anziché esserci negli anni 80. Ok. E guardando quello mi fa dire, eh, perché quello invece non ha funzionato? Perché quello sembrava essere del tutto in linea con i ragazzi di quell'epoca. Ok. Di quell'epoca. Sono passati un po' di anni, anche se non sembra. Eh, non così tanti da giustificare che io dica questa parola. Però, le Winx effettivamente lì sono state svecchiate, ma non hanno funzionato lo stesso. Che cosa andrebbe davvero svecchiato delle Winx? Perché pure alla Rainbow credo che siano un attimino in difficoltà a dire, aspetta, cioè, Ma perché secondo me... Con clienti internazionali che pretendono cose, e noi cosa possiamo fare? Ma perché secondo me quella roba non funziona qua. Cioè, non funziona un po' più funzionare. Cioè, in Giappone funziona, diciamo, il Super Sentai, perché vabbè, beh, non male le Winx assomigliano un po' a quello, no? Cioè, sono delle eroine che si trasformano, hanno poteri magici, insomma, hanno costumi, eccetera. Assomiglia vagamente al Super Sentai. In Giappone va perché i bambini comunque crescono con questo input. Poi non credo che vada più come un tempo manco in Giappone. Esatto, sono tipo De Mao Shoujo. Tipo le Praticure, compagnia cantante. Forse no, Praticure era ma gioco, ma vabbè, non me lo ricordo con questi cazzi. Non credo vada più adesso questa roba, capito, Enrico? Cioè, soprattutto nel pubblico europeo. Non credo tiri più. Sì, ma che intendo dire che cosa si può fare per migliorarlo? Cioè, che cosa devo modificare? No, secondo me devi fare un nuovo prodotto. Fai un nuovo prodotto. Cioè, non capisco perché l'ossessione di riportare in auge le Winx, inseguendo la parvenza di un nuovo boom delle Winx. Non possono più scoppiare. Sono scoppiate negli anni 2000 perché quello era il periodo giusto. Cioè, rispecchiavano, avevano fotografato quel periodo lì. Ma adesso quel periodo lì non c'è più. E cercare di inseguirlo non... È un po' così, un po' una battaglia aperta. Crea un nuovo prodotto. Cerca di fare qualcosa che funzioni nuovo. Nuovo proprio. Perché ha portato successo. Ma sono passati vent'anni, credo ormai, Basimon. Cioè, basta. Le Winx erano state pensate a fine anni 90, direttora. E basta. Stavo pensando. Sì, cioè... Penso che qui stiano facendo un lavoro migliore di quello che hanno fatto quando rianimarono le Winx per Nickelodeon 15 anni fa. Perché li rianimarono tutto quanto, prendendolo uno a uno, modificarono poche cose, che effettivamente erano miglioramenti, ma la maggior parte delle volte le avevano solo fiolate. Cioè, avevano davvero trasformato quella che era una serie che aveva cose un po' strane, ma che aveva un buon animo e avevano tolto l'animo per cercare di correggere i suoi errori. E stavolta vedo una cosa che ha un po' più animo, un po' più gusto. Cioè, un po' più un... Gli metto un vestito che effettivamente è più contemporaneo, cambia effettivamente l'acconciatura a quel personaggio, cambia effettivamente l'aspetto della scuola. Vedo anche il combattimento iniziale che è diverso, è più dinamico, però, sì, cioè, è innegabile. Hanno fatto quello che potevano, ma era necessario fare questo? Dovevano farlo. Secondo me no. Infatti mi sa che hai ragione. Cioè, se ti ricordi, inizio 2000 era tutto colori molto accesi, Paillette, Le Borchie, Angel e Devil, gli Ebisu per i maschietti. Cioè, era proprio una roba... Monella Vagabonda. Cioè, tutti questi brand che erano estroversi, ma erano estremamente kitsch, no? Infatti, guardandoli adesso ci fanno un po' strano. Perché non erano nemmeno né anni 90 né 2010. Era una roba, un ibrido stranissimo. Secondo me è un passaggio verso qualcosa. E Bratz, Winx, tutti questi brand per ragazze andavano forti perché erano quella contemporaneità lì. Ma non siamo più in quel periodo lì. Ci siamo evoluti, le nuove generazioni non sanno nemmeno che cazzo sia uno Scooby-Doo. Figuriamoci le Winx e se le vuoi rilanciare dovessi modificare talmente tanto che conviene fare roba nuova. Cioè, fai un sequel spirituale. Fai delle nuove ragazze, fai qualcosa proprio di nuovo. Cioè, magari anche passando per generi a cui non avevi mai pensato. Il pubblico è pronto. Ma sembra che non si capisca questa cosa. Ma come il remake dei Gormiti. Cioè, che l'hanno fatto tipo anche lì, tipo Power Rangers. È tutto sbagliato, cioè. Sto notando che i Genius Truffi sta mancando il colpo molte volte con le Winx in particolare. Cioè, è dalla quarta stagione che continua a cercare di inserire delle cose che non funzionano. E non capisco se è questione di, vabbè, non ha l'età giusta per comprendere i ragazzini o se invece è più complesso, perché non lavora da solo giustamente. Che cosa succede? Che cosa impedisce le Winx di capire davvero che cosa vuole il pubblico? Perché le poche volte in cui hanno dato al pubblico quello che volevano, come il Sirenix, un attimo dopo stavano facendo il Cosmix. Che, per chi non sa di che cacchio sto parlando, sono passati dal, ok, vi spieghiamo la lore di quello che è successo che non avevamo spiegato nelle tre stagioni precedenti, a un, ah sì, facciamo che adesso hanno l'aspetto di bambine e che hanno una grafica completamente diversa e che improvvisamente mettiamo lo spazio e diventano astronaute. Cioè, perché hai cercato, se quello di prima ha funzionato, perché non hai continuato con quello e hai cambiato? Così come, perché ogni tanto facevano dei tentativi che erano molto fuori luogo? Quarta stagione mi inserisci la fata degli animali, va bene, ci può stare, però la fai come Flora. Flora sparava fiori, allora lei spara farfalle. Non puoi sparare farfalle e aspettarti che io bambina dica voglio proprio essere come lei, che ammazza gli animali sparandoli contro i cattivi. Mi metti dei nuovi cattivi, sono interessanti, li abbandoni per sempre perché la stagione non ha funzionato. Ma i cattivi non erano una cosa che dispiaceva ai bambini, i bambini dispiaceva che quella stagione era un po' animata male ed era un pochetto troppo incastrata nel mondo reale. Sembra che non abbiano grande capacità di giudizio sul che cosa non piaceva alle bambine e che cosa piacesse. Io non penso di saperne meglio più di loro o simile. No, 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 forse. Però vedendo di fallire continuamente mi fa dire non stanno sbagliando qualcosa da tipo 16 anni? Eh sì, c'è uno che ha scritto... Dov'è? Ah sì, Carlo Vergone. Sì, ma Dario mi fa sorridere che in tutto questo tu ti perdesci completamente il ritorno degli anni 2000 con la Wave Y2K che è fortissima, che è un brand abbigliamento. Cioè quindi allora aspetta, fammi capire. Te in attesa del ritorno del boom degli anni 2000 ti prepari facendo un film sul rilancio delle Winx sperando che questo boom degli anni 2000 torni. Bah, mi sembra un po' una strategia un po' azzardata. Insomma, lo stile anni 2000 purtroppo non contempla le Winx. Cioè non è nostalgia per tutto degli anni 2000 ma solo per un certo tipo di estetica nostalgica. Ma non è un brand? Sì, è un brand, no? Non so se ci sia anche un brand. L'ho visto per lo studio dell'evoluzione della grafica. No, no, c'è proprio un brand anche. Di abiti, ok. Sì, sì. È Y2K Streetwear, marchio di riferimento in stile Y2K. Ed è passata già da un paio di anni, mi dicono. Ok. Va bene, va bene. Ah, che poi vuol dire anno 2000, perché il ritorno è l'anno 2000. Ci puoi dire ritorno è l'anno 2000? Perché è year 2K, ma ci puoi dire anni 2000? Vabbè. Sono intelligente per una volta. Ok. Non lo so, è che io in realtà sono abbastanza curioso ed entusiasta, però effettivamente mi dico quali bambine, guardando quella cosa e senza sapere che cosa siano le Winx, diranno sì, sono curioso, la voglio vedere. Vedremo, non lo so. Secondo me non funzionerà, però. Mia impressione. Ah, è improbabile purtroppo. E Rigo, ti ringrazio, ti abbraccio e dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao. Voglio la storia di perché abbiamo saltato quel thriller misterioso. Poi te lo dico, poi te lo dico, poi te lo dico. Ti mando un messaggio a fine live. Ciao, 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 ciao. 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 Grazie a tutti.